Volevo farti tantissimi complimenti per i tuoi 25 anni del Capri Hollywood. È una manifestazione meravigliosa, stupenda, curata in tutti i minimi dettagli. Sei riuscita a far incontrare attori, registi, produttori che arrivavano ad ogni parte del mondo e hai fatto vivere una settimana di magia. Grazie per avermi invitata perché lì la vita può cambiarti da così a così. Grazie Pasquala.